a tutti raffaele benvenuti a questo nuovo video come al solito per iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costa nulla e a me farà crescere un po il canale e seguitemi su instagram bene oggi non vi parlerò di un film ma bensì di una serie tv infatti si è concluso da qualche giorno l'ultima serie tv della marvel she hulk questa serie era una serie che diciamo pensata per distaccarsi per diciamo rinnovare innovare la proposta di serie tv marvel con una serie totalmente diversa molto diversa da quelle finora che abbiamo visto perché comunque parte con l'idea di essere una legal comedy diciamo così in quanto appunto la protagonista she hulk jennifer walters alias diciamo il personaggio prima di diventare she hulk ricordiamo che è la cugina di hulk di bruce banner che viene in qualche modo trasformata anche lì in un hulk e quindi questa serie voleva essere una legal comedy per differenziarsi dalle altre serie marvel diciamo da fare una cosa originale e diciamo per anche riprendere un po quello che è il personaggio nei fumetti perché nei fumetti non sono un grande esperto non ho letto nulla di she hulk dei fumetti però da quello che ho visto anche nei fumetti il racconto diciamo le storie con protagonista she hulk hanno questa questa ironia questa parte di commedia che diciamo non ritroviamo in altre serie in altri personaggi devo dire che questa questa serie ha diviso molto il pubblico è molto decisiva poi soprattutto poi vedendo il finale è stata altamente divisiva però a mio avviso è una serie che assolutamente non è riuscita continua diciamo quella che è la discesa nella qualità delle serie marvel che man mano ci vengono proposte ci sono ancora sempre più serie ormai che sono programmate che arriveranno a breve di tutti i tipici stanno tirando fuori la marvel personaggi sconosciuti di cui non abbiamo mai sentito parlare e nessuno sente l'esigenza per esempio pare vogliano fare una serie su eco che quel quel villan sordo quella donna sorda senza una gamba che abbiamo visto in hocai di cui non interessa niente a nessuno però quanto pare faranno una serie spin off di hocai con eco speriamo diciamo io non lo attendo qui non so neanche se la vedrò poi adesso è uscito da poco l'icantropus che è una cosa ancora diversa non è una serie ma è questo minifilm diciamo così minifilm non l'ho ancora visto in cui con uno stile anni sessanta horror anni sessanta quindi sta cercando la marvel di proporre sempre più prodotti ma diciamo cercando un po di variare ripeto e continuano in quest'ultimo periodo a non riuscirci prodotti che ha proposto non sono all'altezza dei primi e secondo me hanno molti molti difetti per quanto riguarda shulk i difetti sono sostanzialmente diciamo così due uno è quello che è quasi presente in tutte le ultime serie marvel che è il tirarsi trascinarsi la storia per numerosi episodi senza che ci sia realmente niente da dire niente da raccontare ma solo in attesa del finale shulk sono nove episodi che praticamente ripetono tutti la stessa cosa ripetono tutti la descrizione il personaggio in cui vediamo jen che esprime tutta la sua insincurezza esprime tutto il suo il suo problema di confrontarsi con il suo alter ego shulk che invece che è il personaggio sicuro affermato che tutti vogliono che tutti amano e invece c'è la povera jen che non interessa nessuno che non frega nessuno e che nessuno diciamo così considera ci sono dopo il primo episodio in cui vediamo proprio una breve genesi una breve origin story del personaggio in cui c'è anche Hulk e quindi abbastanza interessante il racconto di alcune alcune questioni proprio di che racconta bruce banner nella sua amicizia anche con Tony Stark quindi qualcosa di interessante esce però poi da lì subito c'è questo questa crescita questo allenamento rapidissimo che che ha shulk rispetto a quello che gli insegna Hulk bruce banner e poi ci sono 4 5 6 episodi in cui lei tutte le volte si domanda a che fare ci sono dei fatti che succedono abbastanza irrilevanti e ma il fatto principale è che lei non è sicura di se stessa c'è shulk invece che è quella sempre affermata sicura e quindi a questa diciamo questa problematicità con se stessa poi alla fine è il problema che in questi episodi in cui c'è il centro è sempre la stessa cosa vengono si viene la storia viene trascinata con fatterelli che avvengono in ogni episodio il problema è che non compare neanche l'idea originale quella della legal comedy io mi aspetterei che una legal comedy vediamo la parte di legal in cui c'è un minimo di interesse di di parte di commedia anche un po avvincente nel risolvere i casi nel nel vincere i casi invece qui è molto proprio quasi telefonato ogni ogni processo di tribunale che vediamo anche se sono proprio sono solo due o tre in tutta la serie quindi non è una legal comedy cioè dove sta la parte legal è minima solo perché il personaggio è un avvocato mi pare abbastanza eccessivo per poterlo definire solo per questo una legal comedy e poi una cosa negativissima di tutta la serie è veramente gli effetti speciali la cgi hanno una resa veramente pessima hanno usato non so avranno dato 10 euro a un ragazzino che stava lì per strada e anche senti ci fai ci fai un po di computer grafica e disegni un ulco femmina e così diciamo ti possiamo fare questa nuova serie cioè veramente imbarazzante ci sono alcuni episodi in cui shiulk veramente la puoi scambiare con fiona di shrek cioè fiona di shrek sembra più reale di shiulk se prendevano come facevano negli anni 80 l'u ferrigno lo dipingi di di verde lo metti in scena gli metti la parrucca come se fosse una don sembrava più credibile ma poi ho scoperto che il personaggio di shiulk è interpretato non dalla stessa protagonista che interpreta jennifer walters ma è un'altra attrice su cui gli hanno messo i sensori per poter poi creare shiulk a quel punto mi prendi questa attrice me la dipingi di verde come facevano con l'u ferrigno gli metti magari una tuta in gomma piuma che diciamo con i muscoli posticci è quasi più credibile di quello che in alcune scene abbiamo visto perché veramente la computer grafica la cgi è soprattutto veramente fatta veramente con i piedi per dire fatta da un ubriaco che stava lì e aveva bisogno di un po di spiccioli per per comprarsi la birra cioè non è pensabile una serie marvel questa qualità non la fate proprio non la fate proprio se non avete il budget per investire oppure mi fate proprio il minimo indispensabile le scene con shiulk e il resto mi fate me le fate interpretare da jennifer con già delle storie però che possono reggere poi la serie una particolarità che ha questa questa serie è che da quello che ho visto deriva dal fumetto e la rottura della quarta parete cioè il personaggio la protagonista si a volte si rivolge direttamente al pubblico facendo dei commenti commentando quello quello che succede diciamo questa cosa è stata sfruttata da quello che poi è stato credo l'apoteosi della divisione di giudizio che che è arrivata con il finale di stagione di questa serie infatti il pubblico si è diviso completamente secondo me si è diviso più verso quelli che hanno pensato alla tavanata galattica e non a quelli che hanno pensato al capolavoro perché diciamo è abbastanza faticoso definire questa cosa geniale capolavoro perché altrimenti io prendo un pennello faccio un po di schizzi sul muro mi danno del genio che ho fatto un capolavoro più o meno a questo livello stiamo il problema è che nel nel finale il finale di stagione arriva ad estremizzare questo concetto della rottura della quarta parete innanzitutto con un finale non vi racconterò il finale non voglio fare spoiler che però ti lascia diciamo essere fatto basito in tutti e due i sensi cioè sia se se l'hai apprezzato ma soprattutto se l'hai disprezzato perché diciamo prima di tutto la cosa che una delle cose secondo me non va è quello che è la rottura della quarta parete che tu hai usato in alcune scene in tutta la serie che già non era così evidente c'era una battuta ogni tanto se non sbaglio in alcuni episodi neanche c'è in cui e jennifer si volgeva al pubblico dice avete visto cosa ha fatto no dai non è possibile commenti di questo tipo il distacco con quello che succede nell'ultima puntata è enorme non è solo quello il piccolo commento che tu fai al pubblico che ti sta guardando è qualcosa di assurdo che può essere anche un'idea geniale di finale una cosa assolutamente diversa che nessuno ci avrebbe pensato il problema però di tutto questo è che alla fine dopo che fai tutta sta sta cosa geniale che ti sei inventato non ce lo metti lo stesso il finale alla fine non c'è un finale in questo in questa serie si conclude tutto senza senza che finisca non c'è non c'è un finale alla fine stiamo per arrivare proprio e poi c'è il nulla ci troviamo ai titoli di coda alla conclusione all'epilogo e com'è finita la questione boh non l'abbiamo messo cioè siamo stati così geniali a pensare come poterlo farlo finire che poi quando abbiamo preparato il tutto ci siamo dimenticati della fine va bene un dettaglio poi siamo dei geni comunque e quindi diciamo a me il finale veramente ha lasciato veramente basito e quindi assolutamente per me questa serie è stata una una tragedia perché veramente facevo fatica a vederla per fortuna duravano solo 30 minuti gli episodi e spesso potevo vederli in pausa pranzo mentre cucinavo mentre mangiavo andava lì la puntata e quindi diciamo era un riempitivo però al finale è stato assolutamente scandaloso secondo me è scandaloso poi diciamo hanno inserito anche un personaggio amato è veramente che che tu molti amano come daredevil con charlie cox si è visto nel trailer quindi è inutile che non è uno spoiler però non sembra quel daredevil della serie tv se almeno quella è un personaggio molto cupo almeno il telefilm era la serie era abbastanza cupa qui non lo vediamo con questo sotto questo punto di vista ma vediamo un po più giocherellone siamo così un po più simpatico sarà perché un altro diverso sarà perché sarà perché hanno snaturato il personaggio sarà perché gli serviva uno che facesse il simpaticone non lo sappiamo vedremo pare che faranno anche la serie nuova su daredevil vedremo come sarà questa nuova serie come come renderanno il personaggio bene questo è quello che pensavo io su questa ennesima serie marvel sto iniziando a faticare a guardarle se continuano così penso non le guarderò più però per adesso mi ostino a guardarle ancora ditemi voi cosa ne pensate se l'avete visto innanzitutto lasciatemi un like o un dislike così indipendentemente da tutto fate crescere il canale magari aumentano le interazioni poi se l'avete visto mi dite cosa se avete visto queste avete visto questa serie tv mi dite cosa ne pensate nei commenti mi commentate e mi dite se a voi è piaciuta o se a voi non è piaciuta condividete il video sui vostri social così da diffondere questa recensione ma soprattutto iscrivetevi al canale a voi non costa nulla e farà crescere il mio canale e seguitemi su instagram bene questo è quanto noi ci vediamo alla prossima recensione ciao e alla prossima ciao